E siamo sempre qui da questa bellissima domenica dedicata al tiro con l'arco e siamo con Lorenzo che è il presidente del comitato regionale FITARCO, non solo in realtà. Ciao Lorenzo. Ciao, sì esatto. FITARCO Emilia Romagna come comitato e anche società Arcieri del Forte di Castelfranco Emilia perché non ci facciamo mancare niente, facciamo l'una e l'altra cosa. Per stare impegnati tutto l'anno. Allora, immagino che come ruolo istituzionale ti richieda tantissimo impegno, quindi alle volte forse fai fatica anche a stare dietro la tua squadra. Sì, decisamente. Infatti è una cosa che mi viene contestata simpaticamente dai miei compagni di squadra di non avere tanto tempo per loro, ma scelto sei anni fa di provare questa strada per cercare di aiutare la regione che era in un momento difficile dove il presidente che c'era ha dovuto uscire per motivi personali e quindi alla fine serviva un'altra figura. Ho cercato di mettermi in gioco e sono qua, però l'impegno per gestire una società è una cosa, per gestire una regione con 56 società e più di 2.000 tesserati è un'altra. Tu gestisci un ruolo istituzionale, ma in realtà sei partito come arciere anche tu, immagino, no? Assolutamente. Nel 2009 mi sono iscritto così perché vedendo le Olimpiadi in televisione nel 2008 forse, non so, non ricordo più, ho detto, beh, insomma ci riescono loro, ci provo anch'io. Cosa difficilissima da fare, tirare con l'arco inizialmente, perché non è tanto il gesto, ma quanto avere la testa libera per poter essere impegnato soltanto a ricordarsi tutta la sequenza di tiro, il gesto, la tranquillità di poter stare lì. Però era proprio quella la sfida, cioè liberare la testa per avere un momento mio che fosse non solo di una freccia, ma che potesse essere continuato nel tempo. Che meraviglia, quindi io continuo a consigliarvi di venire a provare, soprattutto se ci sono persone che hanno bisogno di avere un po' più di tranquillità emotiva, magari con questo bellissimo sport la acquisite. Allora, oggi gara importante. Allora, questa è la chiusura del quadrangolare giovanile, è una gara che è stata ideata sei anni fa dal presidente uscente che dicevamo prima, Giuseppe Cozzo, e ha detto dobbiamo fare qualcosa per i giovani all'interno della regione per evitare che si perdano e che non siano relegati soltanto a qualche garetta ogni tanto e che non abbiano uno spazio proprio. Allora, da lì, insieme ad altri tre presidenti, io e ad altre due società, gli Arceri della Landa, allora adesso si chiamano Unione Sportiva Zola di Zola Predosa, e Francesco Veronesi della Duca Obizzo di Camposanto, abbiamo deciso di metterci insieme e cercare di capire come potevamo fare per rendere realizzabile l'idea di Giuseppe. Quindi lui ha messo l'idea del quadrangolare e io ho messo l'idea della premiazione, della medaglia, che poi vedremo, e gli altri due, uno perché ha sempre fatto disegno tecnico e l'altro perché ha l'azienda che costruisce le medaglie, abbiamo pensato di fare questa cosa. Da lì, sei edizioni, ogni anno le società che ospitano le tappe del quadrangolare girano, ruotano, non sono sempre le stesse, e già sul calendario del prossimo anno la soddisfazione di avere sei società che hanno richiesto l'assegnazione di queste quattro gare vuol dire che c'è interesse, l'interesse è cresciuto ed è una soddisfazione personale enorme dal nostro punto di vista. Eh, ci credo, perché tanti sforzi poi vengono ripagati. Allora, adesso io vi vorrei far vedere come viene, tra virgolette, montata questa medaglia perché è davvero singolare e molto carina. Esatto. Allora, inizialmente le medaglie, sapete, che sono sempre tonde durante le premiazioni, o meglio, normalmente sono tonde. Siccome è un quadrangolare abbiamo pensato di dividere questa medaglia, o meglio, più che dividerla, di comporla in maniera tale che ogni spicchio rappresentasse una delle tappe del quadrangolare. e ogni ragazzo che riesce ad andare a podio per quattro volte può comporre la propria medaglia finale e questo sarebbe il risultato, in maniera tale che ha una medaglia più grossa e alla fine dell'anno o negli anni successivi potrà sempre ricordarsi del piazzamento che ha fatto, in quali podi l'ha fatto, se è argento, bronzo o ha vinto la tappa. Quindi è una cosa un po' diversa e poi alla fine abbiamo assegnato punteggi alle varie gare sia per quello che riguarda la qualifica che per quello che riguarda gli scontri e a prescindere da questo risultato singolo di ogni singola tappa alla fine c'è una classifica generale che premia il miglior punteggio acquisito dai vari arcieri nelle varie categorie e sono otto. Quest'anno il compound, che è una disciplina sempre del tiro con l'arco ma è un arco diverso, ha partecipato solo marginalmente e quindi quest'anno abbiamo deciso di premiare gli archi olimpici.